Maremma delle paludi, delle mandrie brade, dei butteri. Maremma, terra di storie fantastiche, di racconti di vita difficile e aspra, di leggende. Ancora oggi la Maremma mantiene lo stesso sapore e offre a chi la visita il fascino e l'intensità che emanano dal suo ricco passato. Il viaggiatore che la attraversa rimane letteralmente avvagliato da una natura rigogliosa, da un miscuglio di antiche civiltà, da tradizioni popolari che si perpetuano nel tempo, da sapori antichi legati alla gastronomia e all'enologia. Maremma è ritrovare tutto l'anno atmosfere uniche e un fascino sempre pronto a stupire. Una saggezza culinaria tramandata nei secoli ha saputo mantenere il gusto antico di una cucina senza tempo e lo schietto sapore delle cose genuine. La bontà delle ricette di una volta è diventata arte di produrre infinite varietà di piatti caratteristici che esaltano i sapori ancora integri, oggi apprezzati più di ieri. Le gustose specialità a base di carne o di pesce, le zuppe e le bruschette sono condite con le fragranze di pregiati oli e accompagnate da ottimi vini doc locali, espressione di tre strade del vino, colli di Maremma con ormai famoso Morellino di Scansano, Montereggio Massamarittima e Monte Cucco. In Maremma vivono anche antiche manifestazioni folcloristiche, segni di una cultura sensibile ai richiami del passato e ben radicata nelle tradizioni locali. Pali marinari e tornai medievali vedono sfidarsi i vari rioni dei paesi coinvolgendo e avvicinando il visitatore al calore, alla saggezza e alla storia di questa gente. Ma quello che sicuramente renderà indelebile il ricordo di un soggiorno in Maremma è l'incontro con i suoi artigiani, uomini e donne che con la loro arte, con il loro lavoro, perpetuano tradizioni millenarie, trasmettendo alle generazioni future cultura e sapienza. E allora come non ricordare i maestri d'ascia di Porto Santo Stefano, progettisti e realizzatori, costruiscono e restaurano scafi seguendo la tradizione e l'istinto, aiutati da secolari esperienze. Il seggiolaio, che con arnesi antichi e forza delle mani, dà forma in breve tempo a suggestivi complementi di arredamento, tramandando ai propri figli un'arte ormai sconosciuta. E ancora uomini e donne che nel silenzio dei loro laboratori, o direttamente nei vicoli dei paesi, riportano alla luce antiche decorazioni, reinterpretano mode di tempi a noi lontanissimi, continuano una tradizione contadina, dettata dalle necessità del quotidiano. Ci permettono, insomma, con la loro arte, di sentirsi circondati dal calore della storia. E ci piace terminare questo racconto proprio così, lasciandoci cullare dal ritmo abile e sicuro di queste braccia, che si confondono e sfumano nei colori e nelle forme propri di questa terra. Tutto questo è la Maremma, regione nella regione, storia nella storia, emozione infinita. Grazie a tutti.